Enesimo incidente nel pomeriggio di domenica 9 aprile, questa volta sulla strada provinciale 565 Pedemontana all'altezza del colleretto Giacosa, a scontrarsi una mototriump Tiger con a bordo una coppia residente ad Ivrea e a novolswagen Bora con alla guida un uomo. Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze della Croce Blu, le di soccorso 218 e i carabinieri del nucleo radiomobili di Ivrea, feriti due motociclisti. Il centauro è stato trasportato all'ospedale di Ivrea mentre la passeggera, ferita in modo più grave, è stata aerei trasportata all'ospedale CTO di Torino, accertamente in corso sulla dinamica del sinistro, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Grazie per la visione!